Ah, che meraviglia! Per le mie cellulite borde sono una beneficione! Mi sento già come dei pop corn sotto la pelle del culo che mi schioppiano! Sì, va bene ragazzi, però abbassiamo il volume, ok? Perché? È liberatorio! Shhh! Non sto scherzando! Ma perché? Dai! Prova! Laura, prova! È facile, è semplice! Lì è anche bello! Dai! A 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 Insieme! A A FAMILA A Ma fa culo a lui che stiamo andando a buttare tutta la nostra vita!